per raccontare un po' quello che... Buonasera a tutti. Buonasera a tutte e a tutti. Io parecchio tempo, è dal maggio del 2018, che mi occupo di www.transform-italia.it e da allora, ogni mercoledì, abbiamo pubblicato una serie di nuovi articoli e siamo arrivati a un numero ragguardevole di uscite. Siamo intorno a un archivio di circa 3.000 articoli. È ovvio fare qualche numero, no? È normale, anche se i numeri possono tradire, non possono rappresentare male le cose. Sapete, quando ci si collega al sito o a Google, si possono vedere gli andamenti. Qualche persone hanno letto i nostri numeri mercoledì per mercoledì, anno dopo anno, mese dopo mese, così via. e si vedono queste piccole onde che si alzano intorno a metà settimana, poi tornano ad abbassarsi. All'inizio erano dei segnali molto deboli, anche un pochino contraddittori. C'erano dei momenti in cui c'era più gente, altri in cui ce n'era molta meno. Tra un mercoledì e l'altro si stava sullo zero. Poi lentamente, dopo circa un anno, questi segnali sono diventati più scadenzati, un pochino più ampi, più grossetti. Si sono alzati un po'. Si tratta sempre di numeri piccoli. Quello che importa è la regolarità, è la continuità che siamo riusciti a garantire. E poi si è alzato un pochino il plafond. Prima si arrivava quasi a zero, nei giorni in cui non pubblicavamo nulla. Adesso abbiamo una certa quantità di persone che visita il nostro sito. Certo, poi abbiamo avuto dei picchi un pochino più alti quando, oltre al lavoro di informazione anche di alta qualità che stiamo fornendo, abbiamo dato voce, abbiamo dato spazio alle attività dei nostri lettori, dei nostri lettrici. Gli abbiamo chiesto, ad esempio, di firmare contro l'equiparazione tra nazismo e comunismo. e in questi casi le nostre onde si sono alzate, si sono vivacizzate, ovviamente. E questo è successo più volte. Non è mio compito quello di descrivere qui l'attività di Transform, del sito di Transform in Italia. però rimane il fatto, io credo, che la caratteristica principale del nostro sito è quella di presentare dei contributi di qualità molto alta, di farlo con continuità, il che significa che c'è una mole di lavoro e di intelligenza che viene elargita ogni settimana, tutte le settimane dell'anno. E noi abbiamo, credo, anche ottenuto un risultato nel senso che ormai il tono del nostro sito è distinguibile, è abbastanza specifico. E nonostante questo, oppure al di là di questa valutazione, che credo sia molto positiva, il nostro è comunque un sito tradizionale. La nostra è una rivista, è un settimanale, con uno scarso ingaggio dei nostri lettori, delle nostre lettrici. Un pochino, certo, ma non molto forte. Ma, d'altro canto, non potrebbe essere diversamente, credo. Il nostro è un sito di elaborazione, di riflessione, di proposta, ma su numeri piuttosto ridotti, ed è giusto che sia così. Per cui, credo che non sarebbe un errore tentare di affrontare il problema della diffusione del nostro messaggio, del nostro sito, a prescindere dal senso politico di quello che stiamo facendo, che rimane il, come dire, la bussola, e anche il campo di prova su cui valutare i risultati dei nostri sforzi. e, certo, sarebbe stato molto bello, ci siamo arrivati vicini, offrire dei servizi. Ad esempio, puntualmente, per un certo periodo, abbiamo prodotto, come dire, delle osservazioni sulle attività del Parlamento europeo. Era sicuramente un qualcosa che avrebbe potuto, come dire, aggiungere un piano di informazione, di qualità di informazione al sito, però non ce l'abbiamo fatta. I termini di lavoro che una cosa di questo genere comporta sono talmente alti che non siamo riusciti a mantenerlo. E anche il semplice lavoro di traduzione che per noi sarebbe assolutamente necessario è certe volte carente, inevitabilmente, perché abbiamo a che fare con una difficoltà che è la difficoltà politica nostra. Ovviamente, come dire, questo apre anche degli spazi di ottimismo, nel senso che altre soggettività, altre individualità, altre presenze si possono aggiungere e possono integrare quello che è io credo un bellissimo funzionamento di cooperazione tra comunisti che riescono a produrre dei risultati così elevati semplicemente come dire aderendo a una correttezza di relazioni e a un e a un livello di idealità che ci accomuna. Per cui continueremo a lavorare non è un fatto tecnico informatico e come dire militanza politica. Grazie Giancarlo e ricordo che noi appunto come diceva Giancarlo usciamo ogni mercoledì con articoli riflessioni approfondimenti di natura non soltanto locale non soltanto italiana ma anche europea e globale e e che questo strumento che pure come diceva Giancarlo è per quanto limitato ci permette di aprire degli squarci di ragionamento di 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 conoscenza sul mondo che raramente nello scenario italiano esiste quindi siamo molto eh proud come si dice in spagnolo orgoglio siamo orgogliosi di poter rappresentare grazie a tutti